Perché studiare le lingue classiche? Perché noi concepiamo lo studio delle lingue classiche come strumento per la formazione di menti aperte, menti da ricercatore e da scienziato, da artista e da comunicatore, da manager e da imprenditore. Secondo Umberto Eco, una buona educazione classica è fondamentale per rendere inventivo e fecondo anche l'universo della ricerca scientifica e tecnologica. Egli pensava a un liceo umanistico-scientifico dove bisognerà sì insegnare il teorema di Pitagora, ma anche le idee di Pitagora sulla teoria delle sfere e il suo terrore dell'infinito. Il D'Azeglio è una delle scuole storiche di Torino, noto per la sua illustre tradizione culturale e civile, tanto da essere stato definito una palestra di democrazia. Ma a noi la tradizione non basta e guardiamo soprattutto al futuro, convinti che questa sia la vocazione più autentica della scuola di oggi. A partire dallo studio razionale di metodo e contenuti, formiamo i giovani a esplorare la conoscenza, ad acquisire, organizzare ed elaborare dati, a coltivare il talento individuale, a creare una rete di relazioni personali e a orientarsi nel mondo di domani.